Buonasera a tutti, bentornati a Palla Ovale, il nostro settimanale sul rugby e sul rugby celtico e degli aeroni in particolare. Questa sera abbiamo un ospite illustre, il più illustre degli aeroni ed è il presidente, buonasera presidente Silvano Melegari, con noi, doveva essere con noi anche Pablo Canavogio, poi per un contrattempo dovuto alla società e non per sua volontà non è potuto esserci, lo aspettiamo per le prossime puntate, gli facciamo i complimenti anche per il suo esordio stagionale di sabato scorso. Presidente, esordio in casa stagionale nella Celtic League, lei è presidente ormai da un ventennio del rugby, a Viadana ne è il simbolo ormai, tra un po' vedremo la sintesi, vedremo come è andata, una bella partita molto intensa, molto fisica, ma prima di tutto sedersi allo stadio in quel contesto sabato in mezzo a quasi 5 mila persone in Celtic League contro un mostro del rugby che è l'Alster, mi dica che effetto le ha fatto? Beh, francamente devo dire straordinario, eccezionale, anche perché se avessi pensato 20 anni fa di poter vivere questa emozione, dopo 20 anni non avrei mai assolutamente pensato un'idea di questo tipo, devo dire che è stato straordinario, straordinario è l'attenzione che viene rivolta in particolare a questo importante campionato e soprattutto devo dire la cosa più straordinaria per me è Viadana, questa è la vera verità, nel senso che è stato fatto molto in questi ultimi anni sulle strutture e riuscire a portare a Viadana, che comunque è vero che siamo poco distanti da Parma, grande culla del rugby, siamo in provincia di Mantua, siamo comunque in periferia, perché questa è la vera verità, una cittadina come Viadana che ha quasi poco meno di 20 mila abitanti e riuscire a portare allo stadio, a catalizzare quasi 5 mila persone che sono venute indubbiamente non solo dalla provincia di Manto o dalla provincia di Parma, ma anche da tutta la regione Lombardia, piuttosto che l'Emilia Romagna, il Veneto, il Piemonte, eccetera, è straordinario. Abbiamo visto da Cremona, squadre di Cremona, ho visto anche, è vero. Questo è veramente la cosa più straordinaria che mi ha inorgoglito ieri e sabato vedere la partita. Cos'è secondo voi che ha fatto innamorare tutta questa comunità della sua squadra? Beh, è molto semplice, devo dire la verità. Noi abbiamo già vissuto queste esperienze, più contenute evidentemente, anche se devo dire la verità, l'anno scorso è straordinario perché abbiamo raggiunto 7 mila tifosi quando abbiamo giocato al Giglio con gli Ospris e questa è la chiave di volta, cioè giocare ad un alto livello, come abbiamo sempre giocato in questi ultimi anni in Heineken Cup, contraddistinto ovviamente dalla partecipazione di squadre importanti alzando il livello di gioco e quindi anche con, lasciatemelo dire, con degli arbitraggi che sono certamente molto meno fiscali di quegli italiani. Abbiamo visto l'arbitro di sabato che abbiamo contato 40 fischiate, normalmente ne fanno più di 100. Quindi questa è la dimostrazione reale che c'è una vivacità nel gioco dettata anche da un menor freno che dall'arbitro, quindi sostanzialmente interrompe il gioco quando ce n'è veramente bisogno e poi giocare con delle squadre di alto livello, questo catalizza il pubblico, catalizza l'attenzione e che a Via d'Anna c'era questo grande fermento e che proprio per questa iniziativa dell'esordio in Celtic League ha attratto notevolmente moltissimo pubblico. Certo, è stata anche una bellissima giornata. Prima di andare a vedere la sintesi andrei a vedere rapidissimamente i risultati della giornata di Celtic League, sapete si gioca sia il venerdì che il sabato, questa volta anche la domenica. Abbiamo il venerdì, Ledingburgo è stato sconfitto 13-16 dal Munster, poi abbiamo gli Osprez che hanno castigato il Benetton 32-16, poi vedremo anche le immagini dei Veneti giocate in Galles, poi abbiamo gli Scarletz che hanno vinto i due punti contro il Connacht 35-33, poi abbiamo il Leicester 34 contro i Blues 23, abbiamo gli Ironi purtroppo sconfitti dall'Alster 15-22, poi ieri si è giocata l'ultima partita, i Dragons hanno sconfitto i Warriors per 23-11. Rapidissimamente se vogliamo vedere anche la classifica che vede in testa il Munster con 9 punti e l'Alster con 8, casualmente le due squadre che abbiamo appena incontrato in questi primi due turni con gli Ironi, poi a seguire Connacht, Osprez, Leicester e Scarletz con 6 punti, i Blues a 5, i Warriors, il Benetton Treviso e i Dragons a 4, chiudono Ledingburgo e gli Ironi rugby con un punto, il punto che abbiamo conquistato sabato grazie al bonus del ridotto scarto contro i vincitori. Ma adesso Presidente vediamoci un'ampia sintesi della partita di sabato. Sono gli irlandesi dell'Alster a sbarcare la zaffanella per questo esordio casalingo degli Ironi in questa Celtic League 2010-2011. Ironi che scendono in campo con la formazione confermata della prima giornata in cui hanno perso, pur facendo un'ottima figura contro il Munster, ecco Del Fava ex di turno, questo è l'arbitro David Jones ed è anche lui, anche per lui è un esordio in Celtic League, ecco che la partita comincia con il calcio d'avvio di Mercier che già spedisce in profondità il pallone e quindi i suoi avanti. Ma non è un inizio felicissimo per gli Ironi perché nella prima azione alla mano vedete il centro de Fontaine che va a contatto contro la difesa irlandese e si infortuna per lui un infortunio al ginocchio e i legamenti del ginocchio, ancora non si conosce bene l'entità. Passa neanche un minuto ed anche uno dei piloni irlandesi Fitzpatrick si infortuna al suo posto entrerà Young. È una partita molto fisica fin dalle prime battute, molto intensa, c'è già la prima punizione al sesto per gli Ironi che Mercier trasforma per una entrata irregolare in rack. Al decimo sono gli irlandesi a spaventare gli Ironi con questa bella azione alla mano che viene interrotta proprio alla fine e portata in tush. Ecco uno dei primi ingaggi in mischia ordinata, in questo caso l'arbitro decide che è Perugini a far crollare le prime linee e quindi punizione per gli irlandesi che O'Connor trasforma per il 3 a 3. Ancora problemi secondo l'arbitro nei raggruppamenti, qui è Tebaldi ad essere punito per un'entrata giudicata irregolare e ancora l'apertura degli irlandesi spara il piazzato del vantaggio 3 a 6 per gli ospiti. I ragazzi di Bernini spingono, conquistano due tush nell'arco di pochi minuti nell'area dei 22 a ridosso dell'area di meta degli irlandesi ma in tutti e due i casi la formazione irlandese riesce a metterci una pezza tant'è che Mercier alla fine tenterà questo spettacolare calcio verso l'ala, Tonio Latti che non riesce a controllare l'ovale, i problemi in tush saranno un po' la costante di questa partita per gli aironi così come costante sarà la loro indisciplina che verrà regolarmente punita all'arbitro ed ecco la prima severa punizione dell'arbitro, 10 minuti fuori dal campo per il numero 8 Williams, gli irlandesi spingono in superiorità numerica, cercano l'affondo decisivo, si conquistano una punizione che però l'apertura questa volta sbaglia. Sulla ripartenza veloce degli aironi vedete Erasmus che da palla a Tonio Latti si invola, cerca il sostegno del pilone De Marchi, c'è raggruppamento, gli aironi cercano una meta addirittura in inferiorità numerica ma poi l'azione alla mano si perde per imprecisione, si torna però su un vantaggio precedente e Mercier capitalizza con tre punti e si pareggia ancora. Qui il recupero spettacolare dell'ala Rubini che su una terza linea riesce a sbilanciarle e a portarla fuori a due metri dalla linea di meta, dalla segnatura da cinque punti. L'arbitro però torna su un vantaggio precedentemente concesso agli irlandesi e quindi l'apertura capitalizza i tre punti. Il secondo tempo si apre con questo splendido drop di Mercier che riporta in parità l'incontro 9 a 9, parità anche numerica con il ritorno in campo del numero 8 Williams. Passano pochi minuti ed entrano Bortolami in seconda linea e Pablo Canavosio numero 9, problemi a un dito per Tito Tebaldi. In questa fase gli aironi sono costantemente all'attacco e su una percussione degli avanti e gli aironi fermata in modo irregolare dagli irlandesi nasce la punizione che Mercier trasforma per il vantaggio degli aironi sull'Aster 12 a 9. Vantaggio che dura anche dopo questo errore dell'apertura irlandese per un fallo del nostro numero 9 Canavosio numero 10 irlandese che però si rifarà poco dopo approfittando anche del secondo cartellino giallo della giornata a Pizzarro per un affossamento del pallone in un raggruppamento non regalerà più l'errore e quindi siamo sul 12 pari. Entrano forze fresche ma al sessantesimo ecco l'intercetto del numero 8 Diak che prende palla e si invola in meta senza alcun ostacolo se non l'ultimo disperato tentativo di Tonio Latti ma la meta c'è ecco l'intercetto del dinamico numero 8 irlandese che ha creato problemi per tutta la partita agli aironi e la trasformazione dell'apertura irlandese che fissa il punteggio sul 19 a 12. Si catapultano in avanti gli aironi Perugini si sposta a pilone sinistro e crea problemi al suo diretto avversario fino a procurare la punizione del 15 a 19. Poi ancora problemi di disciplina per gli aironi due punizioni concesse agli irlandesi. Questa è la prima il fallo di Bortolami su palla alta. L'apertura irlandese questa volta sbaglia. Non sbaglierà qualche minuto dopo al settantunesimo per un'altra entrata irregolare in raggruppamento fissando il punteggio sul 15 a 22. Forza in finale degli aironi che costa il cartellino giallo al flanker Wannenberg. La mischia degli aironi si getta in avanti il numero 8 Williams palla in mano varca la linea di meta sembra fatta una meta che se trasformata potrebbe valere il pareggio per gli aironi. L'arbitro però chiede il TMO non è convinto che Williams abbia appoggiato la palla sull'erba e in effetti dal replay sembra proprio così. Sembra che la difesa degli irlandesi nell'ultimo disperato tentativo sia riuscita ad evitare la meta. Doccia fredda dunque per tutto lo Zaffanella quasi esaurito ci provano fino all'ultimo azione alla mano Williams passa a Quartaroli ma in questo scontro commette lì in avanti che di fatto chiude il match. Match che si chiude con la vittoria dell'Alter per 22 a 15. Gli aironi si devono consolare con un punto l'unico che riescono a portare in classifica ma tanto rammarico c'è. Ecco erano queste le immagini salienti una sintesi del match. Abbiamo pochi istanti prima di andare in pubblicità. In questi pochi istanti voglio chiedere al Presidente. Lei ha visto la partita di fianco ai suoi colleghi diciamo irlandesi ma ha detto che nel secondo tempo non erano affatto tranquilli vero? No assolutamente no soprattutto quando in inferiorità numerica abbiamo rischiato di andare in meta. Questa è stata la vera maggiore preoccupazione che ha destato in loro perché francamente non sono abituati loro ad avere dei cali di tensione. In realtà in quel momento è stato veramente difficile perché c'è stato indubbiamente un calo di tensione mentre noi siamo stati molto lucidi e che peccato non siamo riusciti ad andare in meta. Certo ma la pressione costante c'era e si è visto e gli ha fatto paura, gli ha spaventati. Andiamo un attimo in pubblicità, ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra poco col Presidente degli Aironi. Silvano Melegari. Grazie. Grazie.